Lungo la strada che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, l'impresa Traversone di Carasco ha installato le reti di protezione della passerella pedonale, ha predisposto la strada di accesso al cantiere e con l'ausilio di sub specializzati sta individuando il punto di attracco del pontone che dovrà sistemare i massi per l'accesso via mare. Il principio studiato dalla città metropolitana e sposato da noi come associazione temporanea di imprese è quello di aggredire su più punti quest'opera. Ci sono già tre rocciatori sulla parte dietro alla curva, diciamo verso Paraggi, che stanno facendo delle opere che non si può arrivare da terra ma solo imbragati, quindi loro faranno la parte dei lavori su fune. Noi siamo in capogruppo, in presa Traversone faremo le opere stradali, poi c'è l'impresa I Costre Sreale di Genova che ha i rocciatori, poi c'è l'Arte Sub Sreale di Spezia che farà i lavori via mare, quindi ai sub adesso in acqua e poi arriverà col pontone già in settimana, è previsto l'arrivo giovedì e venerdì, meteo permettendo. C'è la società Bonfiglio Alberto SAS di Borghetto Vara, che anche loro fanno lavori stradali, trasporti, ci aiuteranno a noi nei lavori proprio sulla strada. L'apertura sarà sicuramente, dobbiamo riuscirci, perché questo è l'intento di tutti, a Pasqua con un senso unico alternato e poi successivamente tutte quelle opere di finitura che si potranno fare anche a traffico in corso. A Pasqua strada aperta a senso unico alternato e si sbilancia al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che ha visitato il cantiere forse anche qualche giorno prima, ma all'inizio dell'estate strada aperta in entrambi i sensi di marcia. Credo che sia importante la collaborazione che già c'era, ma che in questo frangente è diventata più intensa, più significativa e anche più proficua tra Comune di Santa Maria di Ligure, Comune di Portofino, Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria. Questo ha beneficio di tutto il territorio, perché Paraggio e Portofino attraggono dei flussi turistici a livello internazionale importantissimi che tengono in piedi l'economia del territorio. Quindi era importante poter garantire l'afflusso regolare, certo organizzato con delle fasce orarie, ma credo che chi vuole visitare questo territorio, venire a vedere la bellezza salvaguardata e quella che stiamo cercando di ricostituire, può farlo, basta che si informi e rispetti le tempistiche che sono date.